Le società di Serie D ampliano il pensiero da oggi fino a mercoledì prossimo. Impegni ravvicinati e possibilità di chiudere degnamente il 2020. Appuntamento poi rimandato al giorno dell'Epifania per il primo turno del nuovo anno. Proprio per l'imminente turno infrasettimanale del 23, 12 partite del campionato di Serie D si giocheranno in anticipo. Nel girone F domani si giocherà Vastese-Montegiorgio a partire dalle 14.30. Continuano a maturare i rinvii, benché con frequenza inferiore rispetto alla vigenza del protocollo precedente. Quanto al girone F esiste a tutti gli effetti un focolaio di contagiati abbastanza nutrito. Nelle fila della Re Canatese si parla di 10 positivi al coronavirus. Dopo aver espletato le formalità di rito sono arrivate le ufficialità dei rinvii delle prossime due gare ravvicinate. Non si giocheranno dunque né Re Canatese-Fiugi di domenica né Montegiorgio-Re Canatese di mercoledì. Identica situazione ad Agnone dove ad oggi si registrano un totale di nove contagi al coronavirus. I Granata non giocheranno né a Tolentino né in casa contro il Giulianova. Agnone e Re Canatese sono accomunate dal fatto che per entrambe si tratta del terzo rinvio consecutivo, visto che si sarebbero dovute affrontare in Alto Molise lo scorso fine settimana. Ad oggi le gare appena citate, lo ricordiamo due rinvii a testa più lo scontro fra Agnone e Re Canatese, non hanno una data già fissata per il recupero. Per fortuna si può anche parlare di calcio giocato. È il caso del Campobasso che prepara a dovere la trasferta ostica in casa del Castelnuovo, che è una frazione di Castellalto, piccolo comune dell'entroterra Teramano. Cudini, che non sarà in panchina per squalifica, ragiona ad una valida formazione da opporre senza vitali, out tre giornate, e che ha mal digerito questa pesante sanzione combinata dal giudice sportivo. La prima della classe attuale, con una partita ancora da giocare, vuole provare a prendere un certo largo in classifica, anche se comunque siamo ancora all'ottava di andata. La partita nasconde delle insidie particolari, anche per le dimensioni del campo di Castelnuovo. Sarà una piccola struttura di periferia, dove i Teramani sanno sfruttare le armi dell'aggressività e della corsa. Il Campobasso dovrà saper usare le sue, quelle della tecnica e degli spazi, dove Cogliati è praticamente infallibile, ed Esposito sa appoggiare, che è una bellezza. Anche il Vasto Girardi ha voglia di tornare al successo. L'ultimo risale al 16 ottobre contro il Rieti, anche se in mezzo c'è stata la lunga pausa di campionato. Squadra al lavoro e con il morale buono in vista dell'Aprilia. In alta quota sarà lecito attendersi una partita accesa e divertente, con un risultato che potrebbe apparire aperto alla vigilia. L'Aprilia ha visto la luce dopo mesi di buio, sia sotto il profilo dei risultati che dei contagiati in rosa. I laziali potranno misurare la tenuta di un Vasto Girardi, chiamato mercoledì, al derby di Selvapiana. Cinzia al Balonga Matese, che verrà trasmesse in diretta su Sport Italia, varrà molto per entrambe le squadre alle prese con crisi di risultati. I laziali hanno subito un brutto K.O. a Rieti nel recupero, mentre il Matese presenta dei numeri abbastanza carenti, con solo due turni positivi su sette giocati. Qualche timido segnale di ripresa c'è stato contro il Vomano, che però si è rivelato più forte sul campo. Ma domenica a Genzano i casertani non potranno tornare a casa ancora con un K.O.